Un'edizione del Bailazio particolarmente riuscita e che permetterà agli operatori del Reatino e delle altre quattro province del Lazio di proiettarsi verso l'Expo 2015 con un'offerta turistica di qualità già testata in questa importante occasione, come è emerso dai giudizi espressi al termine del 2113 incontri dai circa 80 buyers provenienti da tutta Europa e dalla Russia. Così il presidente della Camera di Commercio di Rieti, Vincenzo Regnini, intervenuto alla chiusura della diciassettesima edizione del Workshop Turistico Internazionale Bailazio, svoltosi quest'anno nel Reatino ed organizzato dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Lazio, dalla Camera di Commercio di Rieti, dalle altre Camere di Commercio del Lazio in collaborazione con l'ENIT e l'Agenzia del Turismo della Regione Lazio e con il pieno coinvolgimento delle associazioni di categoria di settore e i comuni di Rieti, Contigliano e Greccio. Molto apprezzato dagli operatori stranieri che sono rimasti nel Reatino sabato e domenica, in particolare provenienti da Polonia, Ucraina, Regno Unito, Francia e Russia, anche il Tour Post Workshop, nel corso del quale sono state visitate numerose strutture, consentendo ai sellers di analizzare e valutare direttamente sul campo l'offerta turistica locale, caratterizzata come territorio votato alla promozione di percorsi religiosi, culturali, ambientali ed enogastronomici.